Ciao a tutti ragazzi, io sono The Lionel, io Soundless aka Erichire25 e oggi siamo qui per recensire questa bellissima gabbietta per gatti, è veramente fantastica. Sì, è veramente un trasportino coi fiocchi, comodissimo e anche molto gradevole dall'aspetto per i vostri animali domestici, in particolare per gatti. Esatto, è dotato di tutti i comfort, infatti qua da questo lato ha una finestrella per tutti quei gatti un po' claustrofobici che almeno così vedendo il fuori possono tranquillizzarsi. Poi è anche molto buono il comparto di aireazione, come vedete griglia laterale, superiore, inferiore e anche frontale, veramente veramente tutto studiato nei minimi dettagli. Ha pure una maniglia qua su in alto che è veramente comoda per trasportarlo appunto. Unico difetto di questo trasportino è il peso, perché veramente si rischia di affaticarsi nel portarlo per lunghi tragitti. A parte gli scherzi. Oggi siamo qui per recensire il nostro nuovissimo case della Cooler Master, lo Stormtrooper. Questa versione, come vedete, avviene già finestrata e lo dico perché solitamente lo Stormtrooper avviene con il pannello laterale completamente chiuso. Ma è il contrario di quello che avviene per il suo gemello bianco, ovvero lo Stormstriker, che di serie è già finestrato. Quindi senza perderci in ciance, passiamo subito a vedere in dettaglio tutte le caratteristiche di questo case. Adesso andiamo velocemente a togliere le nostre viti e a togliere appunto la nostra paratia laterale, che è la nostra finestrona, molto semplicemente evitando di distruggere ogni cosa. Iniziamo col vedere il comparto di areazione. Col case sono fornite quattro ventole. Partiamo subito con la ventola posizionata nella parte posteriore, che è da 140 mm e posizionata in l'interazione, come indicato dalla freccia, per buttare ovviamente fuori l'aria calda, proveniente dal processore. Mentre queste due ventole, che al momento sono poste lateralmente, sono da 120 mm, rete illuminate a led rossi. Possono però essere ruotate di 90 gradi e posizionate quindi nella parte frontale, come vi faremo vedere alla fine del video. Qui abbiamo la possibilità di inserire altre due ventole da 120 mm, ovviamente solo se rimuoviamo la gabbietta per gli SSD o comunque hard disk da 2,5 pollici. Utili i due filtri antipolvere inferiori, questo è quello posto sotto l'alimentatore e questo è quello anteriore, particolarmente utile se installiamo altre ventole in immissione. Però mi raccomando, ricordatevi di pulirli periodicamente. Molto comoda è questa enorme finestra posta dietro all'alloggiamento per la scheda madre. Chiaramente serve per installare dissipatori per la CPU una volta che la scheda madre è montata senza doverla smontare ogni volta. Nella parte anteriore troviamo una scatola di cartone fissata con un laccetto, al cui interno ci saranno le slitte per gli hard disk, su cui sarà possibile fissare un hard disk da 3,5 pollici, ma utilizzando questi fori anche che quelli da 2,5 o comunque degli SSD, soprattutto se togliamo la gabbietta. Nella parte frontale troviamo una chicca che è questo sportellino con il logo Cooler Master che si apre così semplicemente a baionetta, al cui interno troviamo un comodo cassettino. Si toglie svitando due semplici viti, ecco fatto, e quando lo andiamo a estrarre lo si apre semplicemente sollevando il coperchio e all'interno troviamo un sacchettino con tutte le varie viterie, i distanziali per la scheda madre, una prolunga per l'alimentazione, delle fascette e dei comodi adattatori per installare per esempio un card reader da 3,5 pollici negli slot frontali. Adesso andiamo a togliere il top del nostro Stormtrooper, ovvero qua sotto ci sono tre levette che noi dovremo premere e poi spingere verso l'alto. Si, riesco. Questa ovviamente è la maniglia che è rivettata al telaio del case, è molto solida ma quando la alzate tenete comunque una mano sotto evitando rischi inutili. Questo è il filtro antipolvere posto sul top che effettivamente è piuttosto inutile visto che questa magnifica ventola da 200 mm è posta in estrazione e quindi non dovrebbe accumulare polvere. Se invece comunque la rimuoviamo possiamo installare due ventole da 140 o 120 mm o ancor meglio un radiatore per dissipatori al liquido. Passando al lato destro del nostro Stormtrooper possiamo notare subito i gommini per il passaggio dei cavi che sono molto comodi ma una piccola pecca diciamo che abbiamo trovato è che sono troppo sottili, infatti si possono deformare troppo facilmente. Molto buono invece è lo spazio per il cable management che è più di un centimetro ma aumenta notevolmente se consideriamo anche la bombatura sul fianco laterale. Nella parte posteriore possiamo subito notare i morbidi gommini per l'uscita del sistema di raffreddamento al liquido, eventuale appunto se qualcuno lo decide di installarlo, l'alloggiamento della nostra ventola da 140 mm, i 9 bay per gli slot espansione PCI, qui un comodo ferma cavi per fermare appunto il cavo della tastiera, del mouse o comunque in modo che quando lo tirate non viene via e qua giù abbiamo semplicemente appunto lo slot per l'inserimento del nostro alimentatore. Dulcis in fundo il pannello frontale, quello che spicca subito è l'enorme tasto di accensione con il logo Cooler Master retroilluminato di rosso. Qui abbiamo i classici led di stato seguiti dagli ingressi audio del microfono e delle cuffie. 4 porte USB 2.0 e 2.2.0, la porta E-SATA e il tasto di reset. Una delle parti più interessanti di questo case si trova proprio qui, dove abbiamo i tasti per diminuire ed aumentare la velocità delle nostre ventole. Sono disponibili fino a 6 livelli di velocità che vengono indicati da questi 3 led con 2 intensità luminose. E proprio qui abbiamo il tasto che ci permette di accendere e spegnere i led delle nostre ventole. E' molto comodo soprattutto se di notte lasciate il PC acceso in camera, ma permette soltanto di accendere e spegnere 3 ventole. Molto particolare è questo X-Doc che permette di inserire in modo rapido un SSD o un hard disk meccanico da 2,5 pollici. Chiaramente non è una funzione che verrà usata da tutti. Altra dotazione è questa griglia pretragliata che permette di installare un drive da 3,5 pollici. La qualità costruttiva di questo Pool Tower Cooler Master è a dir poco eccellente. Strutture e paratie laterali in acciaio, rifiniture in plastica rivestite da una superficie gommata e finestre in plexiglass. Insomma, il tutto dà grande sensazione di solidità, confermata dal peso di quasi 14 kg. Le sue ampie dimensioni permettono l'utilizzo di schede madri ATX e XLTX, dissipatori alti fino a 186 mm e schede video ben lunghe 32 cm, ed ovviamente c'è tutto lo spazio per un ottimo cable management. Invece per gli amanti della dissipazione al liquido forse si poteva fare qualcosa di più. Partendo dalla comoda maniglia, passando per il cassettino nascosto, le ventole a led rotabili, l'X-Doc e per finire poi con il fan controller, questo case ha tutto quello che si può desiderare. Per quanto riguarda la reazione, il case è fornito di ben 4 ventole, ma se ne possono installare addirittura 6. Il ricircolo d'aria è veramente ottimo e le temperature rimangono molto basse, però purtroppo il rumore delle ventole preinstallate si fa sentire. Peccato anche che al fan controller si possano collegare soltanto 3 ventole, 4 se si sostituisce, quella sul top da 200 mm con 2 più piccole. Alla fine, dopo tanti elogi, la nota dolente, il prezzo. Chiaramente non è un case entry level e tutte queste cose si fanno pagare. Cooler Master non ruba niente, ma assolutamente non regala. E adesso, come promesso, un brevissimo video su come ruotare i cistelli delle ventole in posizione frontale. Per prima cosa togliamo i 6 copri slot di fronte al case, in modo da poter agire e togliere le due viti che vediamo. Una volta tolte le due viti, giriamo il case e togliamo le viti sulla parte laterale delle ventole. Togliamo tutti i connettori per le ventole che servono per alimentare le ventole e per accendere e spegnere i led. Dopodiché sfiliamo i due cistelli. Smontiamo anche le paratie laterali e sostanzialmente le dobbiamo ruotare. Esattamente come vediamo adesso. Una volta ruotate tutte e quattro le paratie, non ci resta altro che fissarle di nuovo con le viti e reinserire i cistelli con le ventole, però stavolta dal lato frontale. Colleghiamo di nuovo i connettori, avvitiamo di nuovo i cistelli alle piastre laterali e voilà, il gioco è fatto. Ciao!